30 giorni di tempo per presentare all'amministrazione comunale via reggina un progetto per il nuovo mercato di piazza Cavour. Il sindaco del Ghingaro non ha nascosto che molte aziende di caratura nazionale si sono già fatte avanti dimostrando grande interesse per lo storico mercato via reggino. Confesercenti promuove il lavoro del comune ma teme che il settore della ristorazione a via reggio potrebbe risentire di certe scelte. Assolutamente siamo estremamente soddisfatti che il progetto sia arrivato nella sua fase attuativa dopo diversi anni in cui le associazioni e noi in primis avevamo sollecitato l'amministrazione in questo senso. Quindi massima soddisfazione. Come dire siamo un po' perplessi in quanto le manifestazioni di interesse in passato da parte di imprenditori locali erano state più volte sottoposte all'amministrazione anche presentando progetti specifici e particolarmente interessanti. Quindi come dire soddisfatti però poteva essere guadagnato un po' di tempo in questo tempo magari alcune aziende non sarebbero morte di morte naturale come in realtà invece è avvenuto. È chiaro che l'impronta che l'amministrazione intende dare che ci sembra essere quella più rivolta verso il mondo del food comporta comunque delle ripercussioni sul territorio comunale e siamo sicuri che l'amministrazione avrà fatto le valutazioni di impatto necessarie per capire quanto questa operazione vada poi a impattare sul sistema della somministrazione e della ristrazione della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie.